I Romani, noti anche come antichi Romani, furono un popolo che ebbe un'enorme influenza sulla storia del mondo occidentale. La loro storia si estende per oltre mille anni, dal 753 anno corrente, quando fu fondata la città di Roma, fino al 476 d.C., quando l'impero romano d'Occidente cadde sotto la pressione delle invasioni barbariche. La storia dei Romani può essere suddivisa in diversi periodi chiave, ognuno dei quali ha contribuito a plasmare la cultura e la società romana. Il periodo reggio, 753 a 509 anno corrente, fu il periodo iniziale della storia romana, quando Roma era ancora una piccola città stato governata da re. Secondo la leggenda, i primi re di Roma furono Romolo e Remo, i gemelli che furono allattati da una lupa. Durante questo periodo, Roma si espanse e si sviluppò come centro politico ed economico. Il periodo repubblicano, 509 a 27 anno corrente, fu caratterizzato dalla transizione da una monarchia a una forma di governo repubblicana. Durante questo periodo, Roma divenne una repubblica governata da un senato e da due consoli. La Repubblica romana si espanse notevolmente attraverso le guerre e le conquiste, diventando un impero che si estendeva su gran parte dell'Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente. Durante il periodo imperiale, 27 a.C. 476 d.C., Roma divenne un impero con un solo governante, l'imperatore. L'impero romano raggiunse il suo apice sotto l'imperatore Augusto e si estendeva su un vasto territorio. Durante questo periodo, Roma fu un centro di cultura, arte, letteratura e architettura. Furono costruiti numerosi monumenti famosi, come il Colosseo e il Pantheon. Tuttavia, l'impero romano iniziò a declinare nel III secolo d.C. a causa di problemi interni ed esterni. L'invasione dei barbari, le lotte di potere interne e la crisi economica contribuirono al collasso dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C. Nonostante la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'eredità dei romani continuò a influenzare la storia successiva. Il diritto romano, la lingua latina e la cultura romana si diffusero in tutto il mondo occidentale. L'impero romano d'Oriente, noto anche come impero bizantino, sopravvisse fino al 1453 d.C. e mantenne molte delle tradizioni e delle istituzioni romane. In conclusione, la storia dei romani è una storia di conquiste, cultura e influenze durature. Il loro impero ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia del mondo occidentale e la loro eredità continua a essere studiata e apprezzata ancora oggi.